Ogni partita per noi è una sfida, adesso non abbiamo tantissimo tempo per prepararla, quindi è ancora più difficile, ma dobbiamo approfittare il poco tempo che abbiamo e approfittarlo al massimo. Prima guardando cosa possiamo fare noi meglio e anche come possiamo sfruttare le nostre virtù contro loro e vedere cosa fanno loro per stare attenti e essere preparati e anticiparli a loro. No, guarda, facciamo delle cose anche fatte bene, ma sicuramente qualcosa che dobbiamo migliorare per quanto riguarda i turnover, i calci, dobbiamo avvassarli perché li lasciamo loro giocare, quindi per noi segnare, noi facciamo tanta fatica fisica e anche di squadra e dopo ci segnano facilmente, quindi secondo me è una cosa migliorare questa e niente, approfittare anche le nostre virtù per sfruttarla ancora meglio. Guarda, il drive per noi è sempre stato importante, tanto in difesa come in attacco, ovviamente ci studiano e all'inizio d'anno abbiamo fatto un po' più fatica, ma piano piano siamo andati avanti, abbiamo segnato, Ame ha segnato anche delle belle mete sul drive, ma noi siamo quelli che appoggiamo la palla in meta, ma è un lavoro di squadra e non si riesce a fare senza tutti, siamo sulla stessa pagina e intentiamo portare avanti quel drive per segnare anche i punti. Guarda, Cona è una squadra forte, anche giocare l'anno non è facile, soprattutto anche per gli aspetti climatici, quindi oggi abbiamo avuto la fortuna che il clima ci ha dato la possibilità di allenarci un po' in loro condizioni, quindi abbiamo provato a sfruttarle al massimo e ci prepariamo per giocare una partita dura davanti, che loro hanno un bel pacchetto, ma anche come ho detto prima, con loro condizioni loro riescono a giocare anche fuori, al largo, quindi dobbiamo stare solidi in difesa e anche sul drive come abbiamo parlato prima e soprattutto secondo me passerà troppo davanti, nel senso che dobbiamo stare preparati e andare a cercarla noi prima di loro.